Buongiorno a tutti, è pomeriggio, sono le 16.15 di lunedì 27 maggio e noi ci siamo preparati a fare un bello short da questa candela. Adesso ci è venuto leggermente contro, ma perché stiamo aspettando il nostro short? Per il fatto che, rivedendo bene la centratura dopo quello che è successo appunto in questa parte della giornata, non potendo arrivare a 51 barre, possiamo dire che appunto da qui è comunque iniziato il quinto t-3 inverso come segnalato, qui siamo ormai arrivati a 41 barre su massimo 44 e quindi entro 45 minuti, anzi sono appena scattate, entro un'oretta dovremmo iniziare ad avere una discesa che ci serva a chiudere, che cosa? Tutto un t-2. Certo, qui bisognerà comprendere che cosa è successo, perché abbiamo superato questo top, questo top, ok? E quindi questo teoricamente vincola anche, no, non vincola l'inverso, qui no, effettivamente, porta a una potenziale chiusura appunto di inverso, diverso effettivamente su, mi stavo confondendo, DAX, ok? Qui siamo su MIB. Certo, dopo aver avuto un ciclo che si è vincolato a ribasso, vedere che si superano i top del primo t-1 è estremamente particolare come cosa, quindi vediamo che cosa hanno voglia di raccontarci di quello che è successo prima, perché dovremmo probabilmente rivedere qualcosa. Detesto quando fanno queste cose, ok? Ma non ci possiamo fare nulla, non vorrei che da qui o da qui o da qualche parte fosse partito un settimanale che ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giorni e da qui stia partendo tutto un nuovo settimanale, da qui la lateralità iniziale e la spinta più forte appunto nel pomeriggio. Comunque lo scopriremo a breve e vedremo che cosa ci racconterà e se avremo soprattutto dopo, come vedete, questa analisi perfettamente fatta nel weekend in cui dovevamo ritornare appunto sopra questo massimo, quello di chiusura delle 17.15, questo qua, che vi avevo proprio disegnato, potete vederlo come al solito nel video del weekend, avete visto anche in tanti, tra l'altro, quello su Nvidia, che è stimolante perché parliamo anche di azioni che si possono analizzare sempre, come tutto il resto con l'analisi ciclica, l'analisi evoluta e quando mi chiedono un parere, come su House of Trading, lo faccio sempre, per questo motivo su MIB vediamo se passata appunto questa salita, attesa e detta nel weekend, faremo comunque una discesa per chiudere che cosa? 1T-2, lato indice. Per quanto riguarda invece il DAX, è qui che vi dicevo attenzione perché qui possiamo aver chiuso effettivamente tutto un ciclo settimanale e qualcosa di più, e da qui può essere in partenza un nuovo ciclo settimanale per il fatto che siamo saliti anche sopra questo massimo a 18.766, qui abbiamo fatto 67 e poi abbiamo invertito un po'. Anche da qui stiamo aspettando la chiusura di inverso e quindi discesa per chiudere sempre un T-2 ovvero un ciclo a due giorni e qui siamo a 39 barre su massimo 44 che chiuderanno alle 17 di questo pomeriggio. Direi che è tutto per questo rapido aggiornamento, vi ringrazio per il vostro tempo e se vi è piaciuto questa analisi mettete un bel like anche perché è andato, sta andando come vi raccontavo proprio nel weekend. Arrivederci!